amici d'aria vicegennaro master aviz di nuovo un caloroso saluto a tutti buon sabato buon sabato divertito tutti in allegria ma sta io sono da poco salito con il cane e mi sto preparando qualcosa da mangiare e questo video lo voglio dedicare principalmente alla moglie del direttore del terronian magazine elena il direttore è alberto alomisi la moglie elena la quale lei come altre sue amiche mi hanno riuscito a leggere ma perché non metti più i video di quando quando ti cuciti qualcosa io sono così divertente anche quello che dici bene ho avuto sono stato un po impegnato in questo in questo periodo per cui non ho avuto tempo di postare qualcosa poi tra l'altro tra l'altro sono stato come dire sfortunato nel senso che ha dismarito un telefonino si è scassato il computer per cui per cui l'importante è vivere andare avanti andare avanti quindi mi prometto è calda la prossima settimana mi divertirò un po il pomeriggio all'ora di pranzo postando questi piccolini oggi sto facendo uno spaghetto spaghetto con uova di salzurella è una salzurella fatta nuova alla mia maniera nel senso che oltre ai pomodori e i peperoncini verdi già precedentemente fritti nella salsa aglio e sciapolla basilico basilico e beperoncino che a me mi piace assai e poi un po di vino un po di vino ma praticamente questa è una mia ricetta come vedete la spesa del maggio 14 maggio mi date un lè il frasello visto che inizia a fare caldo mi faccia una bella frasello con la pomarola fresca ma la preglia il vino sempre pronto saluto a tutti una salute sempre saluto a tutti a tutti tutti in ottima salute stavo dicendo ecco faccio il spaghetto sempre della della russo questa salzonella che mi sono creato oggi e quindi l'acqua c'è pronta l'acqua c'è pronta l'acqua c'è pronta un ambice su spaghetina ecco qua ecco fatto ecco fatto ecco fatto adesso praticamente praticamente poi ti vorrei già un mio esperimento ti vorrei con voi non lo faccio più allora lo scopro un po' allora ci vediamo dopo ci vediamo dopo magari eh una buona giornata a tutti la ci vediamo che la voglio bene la voglio fare bene la voglio fare un attimo al passato ma non stavo nello a bello guardate guardate riuscite a vedere si vede si vede si vede si vede si vede si vede peperoni eh peperoni verdi fritti precedentemente l'aglio e il cialorno come ho detto peperoncino a me piace come ho detto già prima la pasta io la pasta la metto poi all'interno da salsa direttamente un abbraccio a tutti ed eccoci qua amici eccoci qua come vi ho promesso ritorno dalla mia modesta cucina un piccolo angolo cottura siamo giunti al termine nel senso che la pasta si è cotta la salsa è anche ottimamente buona e allora mettiamo ecco qua ecco qua e allora amicità riguardate io preferisco preferisco fare così non so se lo fanno pure gli altri ma io preferisco così ecco qua i spaventano direttamente nella salsa e 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 ho sempre ho sempre come appreso anche già da mio padre che gli errori gli errori formano la persona e allora ti corregge e vai avanti in modo così eccoci qua eccoci qua eccoci qua e che bell'odore che tenete voi non ci crederete ma ha un odore squisitissimo giallo odore come si dice a Napoli va stupateria ecco qua adora un poco nella salsa facciamolo un poco amalgamare questa pasta è chiaro ecco qua ecco qua il piattino eccoci qua ecco qua musica ecco qua guardate quanto sono bello guardate quanto vedete sti cosi ma l'ho di madre greco queste cose semplici come ho detto sempre la roba semplice a me mi piace già sta niente a fa come le donne la donna più è semplice più è attraente più ti seduce più ti attrae ma la donna più ti coinvolge in quel vortice in quel vortice di sensazione amorosa ecco qua ecco qua ecco qua amici che la truco che mi fanno solo scusate questi che non stessi di sporcogli a tirare la fumacola che fa da un po' ecco qua ecco qua eccoci 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 qua dopo devo pulire tutto totto qua eh e le vuole me dite tutto dove ovo eccoci qua ecco qua amici cari ma voglio fare la vicina ecco qua vedete però più che la scena ma facetevi a lavorare a casa e vorrete se corrisponde a quello che io dico amici cari non perché l'ha già fatta e mi voglio elogiare ma è molto buono tutto questo amalgamarsi ci vuole l'aglio per aver uscito basilico tritato all'interno ecco qua ecco qua a me mi piace quindi io continuo a mangiare ci vediamo la prossima volta un bacione a tutti ripeto buon sabato e divertitevi divertitevi salutatevi abbracciatevi state insieme vivere socialmente è stupendo amico Grazie.